Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli, è inevitabile che vengano scandali, ma guai a colui a causa del quale vengono. È meglio per lui che gli venga messa al collo una macina da bulino e sia gettato nel mare, piuttosto che scandalizzare uno di questi piccoli. State attenti a voi stessi. Se il tuo fratello commetterà una colpa, rimproveralo, ma se si pentirà, perdonagli. E se commetterà una colpa, sette volte al giorno contro di te e sette volte ritornerà a te dicendo sono pentito, tu gli perdonerai. La lettura liturgica della lettera ai Romani è terminata. Ritorniamo quindi al commento al Vangelo. Stiamo leggendo il Vangelo di San Luca, siamo al capitolo 17. Abbiamo ascoltato dei detti di Gesù, sono rivolti ai discepoli, cioè a tutti coloro che vogliono imparare da Gesù e che gli stanno accanto, ma uno è anche rivolto agli apostoli, cioè a coloro che tra i discepoli sono stati scelti per essere inviati, che hanno il compito della testimonianza. Le osservazioni di Gesù partono da una considerazione che Gesù in altre occasioni ha espresso con la parabola del grano della zizzania. Gesù è realista, sa che la comunità cristiana, chiamata ad una vocazione santa, cammina però dentro una realtà che è segnata dal peccato. E quindi noi, chiamati alla fede, a essere i suoi discepoli, proprio camminando, cercando di fare la sua volontà, incontriamo l'ostacolo del peccato, del peccato nostro e degli altri. Ecco perché Gesù ci ha insegnato a chiedere non abbandonarci alla tentazione, perché sa che proprio colui che vuol camminare dietro al Signore Gesù, dietro a Lui, troverà ostacoli. Il primo detto è inevitabile che avvengano scandali. Il termine scandalo indica qualcosa che ostacola il cammino, un oggetto su cui si inciampa, può essere anche una trappola di cui si può essere vittime. Questo in senso materiale, ma il Nuovo Testamento usa questa parola in senso figurato. La parola allora viene usata per indicare ciò che rallenta o addirittura impedisce la fede. E Gesù riconoscere che questi ostacoli che impediscono la fede o la rallentano sono inevitabili. Per questo bisogna stare allerta. Gesù stesso è stato tentato, ha detto a Pietro, tu mi sei di scandalo, quando Pietro ha cercato di impedirgli di andare a Gerusalemme. Anche gli apostoli hanno subito lo scandalo. Ricordate quando Gesù prima della Passione dice sarete tutti scandalizzati. Anche le persecuzioni sono uno scandalo, cioè un'occasione per cedere di fronte alla fede. Ma anche il comportamento di un fratello può essere scandalo, cioè vi impedisce la fede. Dunque è inevitabile che questo avvenga, che tra le relazioni in famiglia o nella comunità cristiana ci siano degli ostacoli. Davanti a questa realtà Gesù prima di tutto reagisce in maniera molto forte e con una espressione figurata dice colui che scandalizza, cioè che diventa occasione di caduta per l'altro, ebbene sarebbe meglio per lui che gli venisse messa al collo una macina da mulino e si gettasse nel mare, soprattutto quando lo scandalo avviene verso i più piccoli. È una parola che è forte e dura, soprattutto per chi ha responsabilità, penso a noi pastori, ma anche a tutti coloro che hanno compito di guida, soprattutto dei piccoli. Non dobbiamo assolutamente essere occasione di caduta per gli altri. State attenti dunque a voi stessi, dice Gesù. Oggi lo dice a me, a voi. State attenti. State attenti a non essere ostacolo alla fede per i più piccoli, per quelle persone che vi sono affidate. è una esortazione pressante alla vigilanza. Dobbiamo essere consapevoli che le nostre azioni non hanno solo un peso sulla nostra vita, ma hanno conseguenze anche sugli altri, soprattutto sulle persone più semplici. E Gesù dà subito anche un'indicazione concreta su come comportarsi per non essere l'occasione di scandalo verso gli altri. E lo fa riconoscendo, sempre dentro una visione realista della comunità, che noi possiamo essere persone che subiscono un peccato, che un fratello faccia qualcosa di male contro di noi. Nei rapporti in famiglia, nella comunità, le occasioni di essere colpiti sono molteplici. Paolo stesso, quando ha parlato delle opere della carne, che noi continuiamo purtroppo a fare, ha messo in evidenza come la carne, cioè l'uomo che agisce da solo, non sostenuto dallo spirito, provoca inimicizia, discordia, dissensi, divisioni. Pensiamo dunque alla realtà del peccato, anche del peccato che ci colpisce. Ecco, per non scandalizzare gli altri, come dobbiamo reagire di fronte a un male, a un torto, a un fratello che ci ha fatto qualcosa di storto? Certamente dobbiamo ricordare quello che ha detto Gesù nel Padre nostro, rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. L'unica arma che Gesù indica e che per primo ha vissuto è tu gli perdonerai, tu gli perdonerai se ritorna a te pentito, anche sette volte al giorno. Cioè un perdono che non ha la misura. Questa è la dimensione della vita apostolica, della vita del discepolo. Questo è il modo con cui non si scandalizzano i fratelli, quando nella comunità c'è il perdono. A quel punto gli apostoli escono allo scoperto e dicono Signore, cresci in noi la fede. Ecco, di fronte a questa realtà in cui siamo costantemente messi di fronte o al pericolo di scandalizzare gli altri, o al pericolo di essere colpiti e non essere capaci di perdonare. Gli apostoli chiedono accresci in noi la fede. E la risposta di Gesù colpisce perché dice Se aveste fede quanto un cranello di senape potresti dire a questo gelso sradicati e vai a piantarti nel mare. C'è un contrasto tra un piccolo seme di senape che è considerato al tempo di Gesù il più piccolo dei semi e il gelso che ha radici ben gradicate per terra come può una fede piccola essere capace di sradicare un albero farlo andare a piantarsi nel mare cioè a fare qualcosa di impossibile. Bene, questa è la cura che Gesù dice e offre a noi oggi nel momento in cui siamo invitati a vivere questo stile cioè di persone che non scandalizzano e che sanno invece perdonare. Hai una forza in te che nasce dalla fede hai una fede anche piccola però è un dono che hai ricevuto nel battesimo e che è un tesoro enorme scoprilo riconosci il bene di essere credente di avere Dio come padre di avere lo Spirito Santo sappi che questa fede può farti fare cose che non sono immediatamente facili ma proprio con lo Spirito con i frutti che lo Spirito sa suscitare tu potrai vivere quello stile di vita che rende testimonianza al Signore Gesù.